Vantaggio degli ospiti al ventiduesimo minuto Maia, nera, polletta, Tinti, superiorità numerica a Tinti Chiede lo scambio, Tinti, vantaggio della Wish Roma Futsal Che col portiere di movimento chiama all'uscita la Tevere Ramo che non riesce ad intercettare Superiorità numerica effettuata e riuscita 1 a 0 Castroni lancia lungo per Castelli, controllo il sinistro sul secondo palo Antonica Sbucca e fa 1 a 1, subito il pari della Tevere Ramo Castelli dentro l'area, col tacco! Vantaggio Tevere Ramo che colpisce a freddo la Roma Grandissimo gol del numero 20 Tinti, Scano, gran controllo di Fanti che va col destro Grandissima risposta da parte di Gallori in angolo Tinti, polletta, a destra Scano, sempre poi Tinti Che prova il destro, la porta è vuota, il tentativo deviato, il miracolo da parte di Polletta Che salva la porta Ribatti poi Fanti, prova a costruire qualcosa, salta l'avversario Chiede lo scambio, ripartezza 2 contro 0 Ci sono Masci e Guancioli Guancioli vuole fare tutto da solo, fa tutto bene Perché il gol del 3 a 1 da parte della Tevere Ramo Grandissima ripartenza, bravo a fintare anche il passaggio e poi a saltare il portiere 3 a 1 Da giocare in questo primo tempo che vede in vantaggio la Tevere Ramo per 3 a 1 Sulla Roma Grandissimo gol da parte di Fanti Che da nulla trova la rete del 3 a 2 Si è girato perfettamente il numero 11 Sembrava inoffensivo, invece ha trasformato l'azione in letale 3 a 2 Fanti trova col piattone Miracolo da parte di Gallori Ma sulla seconda palla c'è sempre Schiano che mette il gol del 3 a 3 Gallori Antonica Si libera dall'avversario Antonica Fa il gol del 4 a 3 Mima una spinta Fanti Vantaggio della Tevere Ramo Fanti Polletta Fanti Si accentra Fanti Va col sinistro, quasi a botta sicura E allora Castroni gioca per Antonica Il controllo di Antonica Fa tutto da solo Antonica Dal possibile 4 a 4 Al 5 a 3 Della Tevere Ramo Doppietta per Antonica Tevere Ramo Visce Roma Futsal Fanti Sul rimpallo di Gallori Che si addormenta sul pallone È il gol del 5 a 4 Che riapre tutto Grossa ingenuità del portiere Scano Tinti Mette per Fanti Il gol del pari di Fanti Il migliore in campo Della Roma pareggia 5 a 5 A 5 dal termine Antonica 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 La porta è vuota Il sinistro Qui c'è Roma Futsal Non è un problema Non è un problema Non è un problema